Tutti in campo con la latta d'autore. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra l'assessorato alla scuola e all'istruzione del Comune di Napoli, Rosso Pomodoro e la società sportiva Amatori Regmi Napoli, e l'aiuto di famosi designer di fama internazionale, tra cui il maestro Riccardo Dalisi, a favore dei ragazzi a rischio di abbandono degli studi per le condizioni di disagio economiche delle loro famiglie. Una sinergia tra le istituzioni che darà vita alla programmazione e allo svolgimento di attività correlate tra sport e formazione, che consentiranno ai giovani di essere avviati ad un efficace percorso di recupero sociale. Simbolo dell'iniziativa sarà appunto un elegante barattolo di latta d'autore, accompagnato da un sacchetto di semi di pomodoro da piantare. Guardi, come assessorato alla scuola, devo dire, abbiamo considerato la proposta che ci è venuta dal Rosso Pomodoro e dalla Sebeto come un modo di interpretare il comune come appunto comune, come luogo di coordinamento, di supporto organizzativo alle migliori iniziative. In questo caso un'iniziativa che mi piace che esca un po' dai parametri, diciamo, della beneficenza ed entra invece con il comune, quindi con il supporto organizzativo del comune, nel profondo della conoscenza della realtà napoletana. Abbiamo pensato appunto con l'aiuto dell'assessorato di dare una mano a questi ragazzi volenterosi da una parte capace, con appunto la struttura mentale adatta, ma purtroppo con una struttura familiare appunto culturalmente, proprio come possibilità economiche, lontane dal prosiglio dell'attività scolastica. Noi cercheremo di sostenerli in campo con i valori che il rugby sa insegnare, che sono questi, la lealtà sportiva, il rispetto per l'arbitro, per l'avversario, per il compagno di squadra e per il pubblico che ci segue in generale.